Un momento cruciale così nel capitolo dedicato ai rifiuti della relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, la Corte dei Conti definisce il primo semestre del 2022 nel corso del quale si legge verranno definiti compiutamente i contenuti delle riforme e dovrebbe iniziare a delinearsi un quadro più chiaro in merito agli interventi infrastrutturali disposti dal Ministero della Transizione Ecologica con l'obiettivo di allineare il settore alle ambiziose politiche europee in materia di economia circolare. All'orizzonte ci sono i target vincolanti al 2035, 65% di riciclo e 10% massimo di discarica, ma lungo il percorso non mancano gli ostacoli. Basti pensare, scrive la Corte, ai deficit territoriali consistenti nella gestione di talune frazioni critiche di rifiuto come rifiuto indifferenziato e l'organico o al mancato completamento della governanza su tutto il territorio nazionale, ma anche all'eccessiva lunghezza delle tempistiche nella realizzazione delle opere preposte alla gestione delle diverse fasi del ciclo, sulle quali incidono anche fenomeni nimbi e nimto particolarmente pronunciati, scrive la Corte, e che non si sposano con la necessità di portare a termine entro il 2026 gli interventi previsti dal PNRR. Più che il finanziamento alle infrastrutture nel PNRR, ricorda però la Corte a prevalere è il pilastro dell'azione riformatrice, che dovrà svilupparsi lungo tre linee di intervento principali, il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, la Strategia nazionale sull'economia circolare e il supporto tecnico alle amministrazioni locali, tutte da portare a compimento entro il prossimo 30 giugno. Per la Strategia e il Programma nazionale le informazioni rese disponibili con le versioni preliminari delle riforme, scrive la Corte, consentono di delineare un buon punto di partenza, ma c'è ancora margine di intervento per consentire una maggiore efficacia delle riforme. Il Programma, osserva ad esempio la Corte, non dovrebbe esimersi da una ricognizione dei fabbisogni impiantistici presenti nel Paese su base regionale, quantomeno per le frazioni critiche del ciclo di gestione e contenere una valutazione critica dello stato dell'arte delle pianificazioni regionali, così da favorire un loro allineamento rispetto ai reali fabbisogni di gestione. Quanto alla Strategia, questa dovrebbe annoverare al suo interno un quadro di maggior dettaglio relativamente alle risorse richieste in reazione agli interventi previsti e alle tempistiche, scrive la Corte. Andrebbero poi semplificate le discipline del sottoprodotto e del land of waste e rafforzato lo strumento del Green Public Procurement. Un'occasione utile potrebbe venire proprio dalla terza riforma, quella del supporto tecnico alle autorità locali, rispetto alla quale, osserva tuttavia la Corte, i flussi informativi appaiono meno dettagliati e necessiterebbero di maggiore trasparenza. Una riforma non meno strategica delle prime due, visto che è anche dalla capacità tecnica delle amministrazioni locali che dipenderà la messa a terra degli interventi da finanziare con i 2,1 miliardi di euro che il PNRR dedica al settore e che per il 60% dovranno essere destinati a progetti nelle regioni del centro-sud. A breve la Commissione Tecnica avvierà l'esame delle domande per selezionare i progetti che andranno realizzati entro e non oltre il 2026. Una tabella di marcia che, scrive la Corte, impone una capacità di messa a terra superiore a quella documentata nel rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica dalla Corte stessa. In quell'occasione la ricognizione operata su 1.841 opere relative alla gestione dei rifiuti urbani finanziate nel periodo 2012-2020 aveva restituito un grado di realizzazione pari al 20%. Numeri questi, si legge, che impongono un deciso cambio di passo se si vorranno rispettare gli impegni e le scadenze previste dal PNRR.